Ok. Dunque, dobbiamo vedere l'argomento delle responsabilità amministrativa civile penale e dell'assicurazione obbligatoria. Cominciamo a spiegare bene queste responsabilità. Allora, responsabilità amministrativa civile penale si riferiscono al fatto che se io commetto un'infrazione, ho una colpa, diciamo così, perché ho commesso l'infrazione, ho una responsabilità che viene sanzionata, cioè praticamente mi viene dato una specie di punizione, chiamiamola così, la sanzione in termini burocratici equivale colloquialmente a una punizione. E queste sanzioni riguardano, sono di tipo amministrativo e riguardano le infrazioni alle norme del codice della strada. Sono di tipo, diciamo, civile, responsabilità civile per danni fatti ad altri durante la circolazione stradale e penale, sempre per danni fatti ad altri ma riguardo alla persona, quindi non alle cose. Adesso li vediamo uno a uno. Cominciamo con la responsabilità amministrativa. La responsabilità amministrativa comporta le cosiddette sanzioni amministrative. Quando trovate nei numerosi quiz su questo, ahimè, su questo argomento così complicato, la parola amministrativa si riferisce sempre a infrazioni fatte a norme del codice della strada. E sono di due tipi queste sanzioni amministrative. Pecuniarie, sanzione amministrativa pecuniaria, che tradotto in termini, diciamo, più semplici significa in denaro, quindi una multa, in poche parole, in denaro, e sanzione amministrativa accessoria, quindi amministrativa riguarda sempre infrazione al codice della strada. Accessoria vuol dire che si aggiunge alla multa, cioè alla sanzione amministrativa pecuniaria, ok? Questo discorso delle sanzioni amministrative accessorie l'abbiamo visto nel video che abbiamo appena fatto, l'argomento poco tempo fa, del sistema sanzionatorio. Anche quello è un argomento complicatino, purtroppo poco digeribile, ma ahimè, ci sono un sacco di quiz. Ok? Spero che sia chiara questa cosa. Poi abbiamo la responsabilità civile, cioè se io faccio dei danni per mezzo del mio veicolo che sto conducendo ad altri persone, cose, animali, sono tenuto a risarcire il danno in sede civile, cioè in denaro. Questa responsabilità civile, quindi chiaramente i possibili danni sono tutti catalogati nel codice civile, cioè che regola la convivenza civile fra gli individui e quindi dice anche quali sanzioni ci sono a secondo delle varie infrazioni alle norme del codice civile. Questi danni si risarciscono, abbiamo detto, soltanto in denaro e, come vedremo tra poco, sono quelli coperti dalla assicurazione obbligatoria. Poi abbiamo la terza che è la responsabilità penale, mentre quella civile riguarda insieme, cioè congiuntamente, si dice in linguaggio burocratico, in solido, cioè contemporaneamente, tutte e due, il proprietario del veicolo e il conducente al 50%, ed è, abbiamo detto, coperta, vedremo in che termini dall'assicurazione obbligatoria. La responsabilità penale, invece, è solo del conducente, quindi non riguarda il proprietario del veicolo. Questa responsabilità penale comporta il carcere, cioè se io ho fatto un danno ad altri in sede penale, per esempio ho un omicidio colposo, dopo vedremo che cos'è l'omicidio colposo, ho investito una persona, insomma, mentre guidavo e quindi attraverso il mio comportamento sbagliato, l'ho investito e l'ho ucciso, è un omicidio colposo. Cioè la colpa non è volontaria, però, insomma, alla fine questo investimento ha provocato la morte, quindi io devo risarcirlo in sede penale ed è esclusivamente col carcere, cioè non ha un equivalente in denaro. Non posso commutare, trasformare la responsabilità penale in denaro, con un risarcimento in denaro. Facciamo adesso un esempio chiaro. Mi dilungo un po' su questa cosa perché so che non è facile da capire. Allora, facciamo il caso che io passo col semaforo rosso. Ho fatto un'infrazione alle norme del codice della strada. Quindi, se in quel momento c'è il vigile, sanzione amministrativa pecuniaria perché ho fatto un'infrazione alle norme di precedenza. In più, per certe infrazioni gravi, come questa sulla precedenza, c'è anche una sanzione amministrativa accessoria. potrebbero, per esempio, sospendermi la patente, mettiamo il caso, adesso sto tirando un po' così a caso, per fare un esempio, per un certo periodo. Perché se faccio delle infrazioni gravi, ci sono delle, diciamo così, delle punizioni, che si chiamano sanzioni amministrative accessorie, che avevamo visto, che si aggiungono alla multa in denaro. Mentre, per esempio, per il divieto di sosta ci sarebbe soltanto la multa in denaro, quindi sanzione amministrativa pecuniaria, non certo quella accessoria, a meno che non sia un divieto di sosta con decurtazione di punti, non so, per esempio, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, alle fermate dei mezzi pubblici, eccetera. E quindi, diciamo che, passo con il rosso, non faccio del male a nessuno, non faccio incidenti, mi fermo lì alle sanzioni amministrative, cioè quelle relative al codice della strada. Passo con il rosso e vado addosso a un altro veicolo, però danneggio solo il veicolo, non il conducente. Quindi ho la responsabilità amministrativa, quindi ancora una volta le sanzioni che abbiamo visto prima, e si aggiunge, naturalmente, la responsabilità civile, cioè devo ripagare il danno fatto. Mettiamo che sfascio una Ferrari, devo pagargli l'equivalente del valore della Ferrari. Se sfascio la 500, pagherò l'equivalente del valore della 500, ok? Però sempre in denaro. Adesso arriviamo alla responsabilità penale. Passo con il rosso. Vado addosso a un altro veicolo quindi sfascio questo veicolo, ma sfascio anche il conducente, cioè gli provoco dei danni, delle lesioni personali gravi. Poi in base alla gravità, che potrebbe essere naturalmente al limite la morte del conducente, si entra nel campo penale. Cioè c'è da risarcire questa persona che io ho danneggiato gravemente, addirittura magari con un omicidio colposo, con il carcere. Attenzione però, qui alla responsabilità, quindi ripartendo da zero, alla responsabilità amministrativa perché sono passato col rosso, quindi multa, più sanzioni accessorie, senz'altro sospensione della patente, magari anche revisione della patente. Poi danni in sede civile, responsabilità civile, sfascio il veicolo. Ma, attenzione, se io danneggio la persona, questa persona ha un valore economico, in base all'età, alla professione, eccetera, eccetera, alla sua posizione sociale. Quindi devo anche risarcire in denaro il valore economico del danno fatto alla persona. Per esempio, in caso di morte della persona, dovrò risarcire non solo i danni fatti alla vettura, ma anche il danno fatto alla persona, sempre in denaro. Poi si aggiunge la responsabilità penale. Non basta pagare la responsabilità civile per il danno alla persona, ma bisogna anche ripagare in termini penali, cioè vado in carcere perché ho ucciso questa persona, anche se non l'ho fatto volontariamente, ma dovevo, insomma, pensarci prima, non passare col rosso perché con questo comportamento ho causato questo grave danno alla persona. Spero di essere stato chiaro, sono tutte e tre indipendenti, quindi ci potrebbe essere solo la prima, l'amministrativa, oppure anche la seconda, civile, oppure anche la terza, penale, secondo i danni che io provoco. E adesso andiamo finalmente avanti con la responsabilità civile connessa al sinistro stradale. Abbiamo già detto che quella civile e quella penale sono comunque indipendenti da quella amministrativa relativa al codice della strada. Chiariamo subito la parola sinistro stradale. Sinistro vuol dire incidente. Troverete sempre nei quiz, magari qualche volta troverete incidente, ma più spesso troverete la parola sinistro, che tra l'altro dovremo anche riprendere perché c'è un quiz che parla di sinistro passivo per l'assicurazione e dopo vi spiegherò cosa vuol dire. Allora, vediamo un attimino se abbiamo detto tutto. Ok. Allora, parliamo della responsabilità civile che significa che chi ha causato danni a persone, cose o animali con un incidente stradale di cui lui ha la colpa, naturalmente, è civilmente obbligato a risarcire il danneggiato anche in caso di danni di lieve entità. È obbligatorio avere l'assicurazione RCA, però non sono obbligato in questo caso a ricorrere all'assicurazione, alla mia assicurazione perché risarcisca i danni che io ho fatto all'altro. Posso anche accordarmi direttamente con il danneggiato circa il valore del risarcimento e quindi non fare la denuncia all'assicurazione, eccetera. Se ci mettiamo d'accordo possiamo anche diciamo così ripagare il danno direttamente senza coinvolgere le assicurazioni. Non è obbligatorio. Oltretutto posso anche farmi assistere da un consulente, cioè un esperto di infortunistica e naturalmente posso fare riparare il mio veicolo. non è che devo aspettare che le assicurazioni facciano le valutazioni le perizie, eccetera, eccetera. Insomma, lo faccio riparare e poi si faranno le foto dei danni del veicolo, insomma, di tutti e due i veicoli nel caso in cui anche io ovviamente abbia avuto dei danni al mio veicolo facendo dei danni all'altro. La mancata copertura assicurativa non aggrava la responsabilità civile anche se siamo fuori legge perché dobbiamo avere l'assicurazione obbligatoria però comporta una pesantissima sanzione in alcuni casi anche la confisca del veicolo quindi assolutamente non si può non essere assicurati. La responsabilità civile come abbiamo detto grava cioè riguarda sia il proprietario sia il conducente divisa al 50% a meno che il proprietario possa provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà esempio classico mi rubano la vettura faccio immediatamente denuncia agli organi di polizia e mi sgravo della responsabilità civile anche perché comunque quella penale riguarderebbe il conducente quindi il ladro se dovesse fare qualche pasticcio qualche incidente col mio veicolo però in questo caso io dalla data dall'orario esatto della denuncia io mi sgravo di tutte responsabilità che riguardano solo chi mi ha rubato la vettura o naturalmente se il trasgressore minorenne la responsabilità ricade sui genitori la responsabilità civile andiamo avanti di seguito e vediamo la responsabilità penale per quello che riguarda la circolazione stradale vuol dire che ho una responsabilità penale se ho violato delle norme del codice penale nei quiz però ce ne sono pochi di riferimenti diciamo di quiz relativi alla responsabilità penale quindi insomma vi deve preoccupare un po' di meno qui vi fa l'esempio dell'omicidio colposo colposo vuol dire che come ho detto prima non è che io l'ho fatto apposta di causare l'incidente però il mio scorretto comportamento ha provocato l'incidente e ho ucciso una persona e quindi comunque la colpa ce l'ho insomma di averla uccisa questa persona abbiamo detto che è sempre personale naturalmente è ovvio che è sempre obbligatorio fermarsi in ogni caso indipendentemente dalla colpa dell'incidente fermarsi per soccorrere la vittima dell'incidente sia che io abbia provocato l'incidente sia che sia stato provocato dall'altro l'incidente quindi io non ho la colpa ma se si fa male provocando l'incidente io devo soccorrerlo in ogni caso ma che posso scappare anche perché sarei soggetto all'arresto preventivo in ogni caso in attesa di di un giudice che determina le responsabilità dell'incidente invece se presto soccorso non sono mai soggetto all'arresto preventivo indipendentemente dalla responsabilità non c'entra chi ha la responsabilità quindi l'importante è sempre fermarsi a soccorrere di chiunque sia la responsabilità questo però prestare soccorso non esclude comunque che se io ho una responsabilità penale me la tengo cioè non è che può non è che me la scontano la responsabilità se io soccorro posso non aggravare la situazione naturalmente soccorrendo la vittima ecco la responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa e adesso vediamo questi tre quiz veri quando vi siano danni involontari alle sole cose cioè come abbiamo detto prima causa un incidente il danno non è volontario però se non devo stare attento però ho fatto danni solo alle cose e quindi non alle persone quando il fatto non sia considerato reato questo è una naturalmente risposta molto generica vera ma molto generica e poi la terza risposta vera è il terzo quiz vero il fatto dipende da causa di forza maggiore ora io vorrei farvi un esempio un po' più chiaro di quello che trovate cioè terremoto inondazione se uno dice cosa c'entra la causa di forza maggiore come faccio a fare danni agli altri per terremoti inondazioni se mai li subisco anch'io allora facciamo un esempio più chiaro mettiamo che io arrivo a un attraversamento diciamo a un'intersezione semaforizzata con l'attraversamento pedonale c'è il semaforo rosso quindi io mi fermo per lasciare attraversare i pedoni e davanti a me sta attraversando un pedone dietro di me arriva un veicolo che non ha calcolato bene la distanza di sicurezza mi tampona quindi frena ma non riesce a fermarsi mi tampona mi spinge avanti e mi fa investire il pedone ora materialmente è il mio veicolo che investe il pedone però per me è una causa di forza maggiore sono stato spinto da quello dietro quindi la colpa è tutta di quello dietro quindi tutti i danni deve pagare quello dietro che mi ha tamponato quindi risarcirà il pedone risarcirà me per il danno subito eccetera eccetera per me in poche parole questa è stata una causa di forza maggiore mi sembra più chiaro come esempio e passiamo alla assicurazione cioè proprio alla parte tecnica ora per circolare sulla strada pubblica qualsiasi veicolo a veicolo si intende veicolo a motore deve essere assicurato e quindi deve avere questa assicurazione rca responsabilità civile autoveicoli la assicurazione obbligatoria copre solo la responsabilità civile non copre né quella amministrativa né quella penale copre i danni che io faccio ad altri che troverete indicati nei quiz con la parola terzi quindi copre i danni che io provoco a terzi persone cose e animali fermiamoci un attimo e spieghiamo chi sono i terzi i terzi come ho detto prima si può tradurre la parola con altri uguale altri cioè sarebbero quelli diversi dal conducente quindi il conducente provoca guidando il veicolo in cui è dentro a guidare provoca danni ad altri che possono essere fuori dal veicolo o anche ai suoi trasportati nello stesso veicolo che magari nell'incidente possono farsi male tutti questi sono considerati terzi in linguaggio assicurativo cioè diversi altri dal conducente ricordatevi che il conducente non è mai coperto dalla propria assicurazione cioè se lui si fa male durante l'incidente che lui sta provocando la sua assicurazione non lo risarcisce per i danni che lui ha ma risarcisce gli altri cioè quelli ai quali lui ha provocato i danni sia esterni al veicolo sia trasportati e fra i terzi c'è anche il proprietario a meno che non sia il proprietario di quel veicolo a meno che non sia lui stesso conducente quindi se il proprietario è un trasportato e sta guidando un'altra persona il proprietario per quanto riguarda i danni diciamo alla persona viene risarcito dall'assicurazione di quel veicolo questa assicurazione vale naturalmente sulle aree pubbliche aperte al pubblico ed è valida su tutti i paesi in tutti i paesi dell'Unione Europea non starei adesso a spiegarvi la convenzione di indenizzo diretto che vi spiegherò quando parleremo dell'incidente stradale perché se no mi dilungo un po' troppo mi andrei avanti a vedere invece il linguaggio burocratico dell'assicurazione allora abbiamo già parlato dei terzi adesso vediamo che cos'è il premio e il massimale assicurativo dunque quando io apro una nuova assicurazione su un veicolo quindi si dice in linguaggio burocratico che accendo una polizza assicurativa insomma è come se accendessi un fuoco accendo questa polizza io dovrò pagare una somma che si chiama premio il costo della polizza annuale che avrà un corrispettivo cioè praticamente il massimale la cifra massima per la quale io mi assicuro quindi il massimale è la cifra massima per cui l'assicurazione paga i danni fino a quella cifra mi sono assicurato mettiamo 2 milioni di euro io ho un massimale di 2 milioni di euro oppure voglio alzarlo se l'assicurazione è d'accordo 3, 4, 5 milioni di euro naturalmente pagherò un premio maggiore in proporzione al massimale per legge non posso assicurarmi al di sotto del massimale minimo o minimo di garanzia per fortuna nei quiz non vi si chiede l'ammontare in denaro di questo minimo di garanzia sappiate che si chiama massimale minimo o minimo di garanzia quindi pagherò come corrispettivo il minimo premio se io voglio aumentare però il massimale per essere più tranquillo posso aumentarlo anche perché diciamo così è bene di anno in anno valutare se aumentare il massimale anche perché il minimo di garanzia è talmente minimo che per danni rilevanti soprattutto alle persone vi ho detto che il danno alla persona va risarcito anche in sede civile quindi in denaro non eventualmente solo in sede penale se c'è naturalmente un danno grave il danno alla persona dipende dalla persona che avete danneggiato e quindi chiaramente potrebbe alzarsi anche di molto se poi avete danneggiato più persone e più veicoli insomma si sommano dal punto di vista economico questi diciamo danni fatti e quindi potreste rischiare di superare il massimale dell'assicurazione cosa succederebbe se superate il massimale cioè facciamo un caso mi sono assicurato per un milione di euro e ho fatto danni per un milione e duecentomila euro i duecentomila euro l'assicurazione non li risarcisce quindi fino a un milione di euro paga l'assicurazione quello che va oltre il massimale i duecentomila euro se li pagano divisi per metà in solido cioè insieme metà il proprietario e metà il conducente allora vediamo un po' sì direi che si può si può passare alla formula dunque i tipi di assicurazioni sono tre però a noi interessa soltanto la bonus malus perché nei quiz è chiesta solo quella quindi non sto a diciamo a spiegarvi tutto il resto vediamo la bonus malus che è già abbastanza complicata quella allora la bonus malus è un'assicurazione che si chiama così perché secondo che io mi comporto bene o male cioè che provoco o no degli incidenti di cui io ho la colpa naturalmente vengo premiato oppure pulito cominciamo cominciamo dal zero apro quindi diciamo così questa nuova assicurazione bonus malus mi metteranno nella massima classe di rischio perché è fatta a classi di rischio quando quindi l'assicurazione è nuova siccome loro non sanno come mi comporterò primo anno mi mettono nella massima classe di rischio cioè nel massimo del malus di anno in anno se io non provoco incidenti di cui io abbia la colpa e quindi non diciamo non provoco sinistri passivi cosa vuol dire sinistri passivi sinistri vuol dire incidenti passivi vuol dire che mandano in passivo l'assicurazione costringendola a pagare per me quindi il sinistro passivo è un incidente dove io ho la colpa e l'assicurazione in me è costretta a pagare risarcire i danni che io ho fatto agli altri quindi se non faccio sinistri passivi di anno in anno mi scalano di di grado mi scalano in bene naturalmente cioè in bonus mi fanno scendere di grado di pericolosità e quindi mi mettono in una classe di rischio sempre inferiore fino alla minima però se io mi comporto male e provoco un sinistro passivo tac scatta subito l'upgrade verso le classi di rischio diciamo maggiori quindi ritorno indietro pagando di più allora se io vado scalando di rischio ogni anno mi diminuiscono il costo del premio cioè pago un po' meno di assicurazione se invece provoco sinistri passivi mi aumentano il premio e pago di più di assicurazione questa è la logica della bonus malus vediamo adesso quindi l'obiettivo è arrivare alla minima classe di rischio dopo tanti anni e restarci senza mai aumentare la classe di rischio perché vi assicuro che si tratta di centinaia di euro di diversità dalla massima alla minima che cosa vi rilascia l'assicuratore quando voi accendete una nuova polizza beh vi rilascia la polizza cioè il contratto di assicurazione che tenete a casa poi vi vi metterà in una classe di rischio anche se non c'è più diciamo così l'attestato di rischio cartaceo che veniva rilasciato di anno in anno però potete controllare sempre di anno in anno via telematica in che classe di rischio siete perché se cambiate assicuratore naturalmente il nuovo assicuratore è tenuto a mettervi nella stessa classe di rischio in cui siete arrivati non è che vi fa ripartire da zero pagando il massimo poi vi darà il contrassegno cioè vi darà no vi darà il certificato di assicurazione che una volta aveva attaccato il contrassegno che è stato dematerializzato che si esponeva dietro il parabrezza adesso non c'è più quindi praticamente il certificato di assicurazione non ha più il contrassegno attaccato e quindi diciamo non c'è più questa esposizione sul veicolo questo certificato di assicurazione dovete però tenerlo insieme ai documenti di guida da esibire su richiesta degli agenti da esibire in caso di incidente anche agli altri all'altro conducente cioè far vedere che siete assicurati chiaramente perché se non siete assicurati si deve subito chiamare la polizia stradale o i carabinieri o i vigili urbani se fate un incidente e vedete che l'altro non è assicurato non può fornirvi nella patente nel certificato di assicurazione dovete sempre richiedere questi documenti quindi annotarvi targa patente assicurazione per assicurarvi che sia tutto in regola non bisogna mai lasciare scadere l'assicurazione perché se no non siete coperti cosa gravissima si può incorrere nella confisca di un veicolo in una pesante sanzione come abbiamo detto amministrativa quindi state attenti alla scadenza ricordatevi che se fate l'assicurazione con pagamento semestrale diciamo che la validità è annuale quindi la scadenza definitiva è dopo alla fine proprio dei 12 mesi però se fate il pagamento diviso in due semestri c'è un periodo di tolleranza se vi dimenticate di pagare il semestre successivo cioè siete coperti però insomma è meglio non lasciarla scadere neanche passando da un semestre all'altro e assolutamente no quando vi scade l'anno quindi dovete senza altro rinnovarla prima della mezzanotte della scadenza se no non avete più la copertura assicurativa vediamo un attimino ancora il diritto di rivalsa perché purtroppo hai chiesto anche quello il diritto di rivalsa che cos'è allora per beneficiare dell'assicurazione io devo circolare in regola da tutti i punti di vista se sono fuori regola per esempio circolo con un sovrannumero di persone ne potrei trasportare solo 4 ne trasporto 5 vietato circolo con un sovraccarico supero la mia portata cioè vado al di là della massa massima complessiva del veicolo sono fuori legge allora i tipi di rivalsa chiesti nel quiz sono questi quando guido senza patente o con foglio rosa senza istruttore dopo vi spiego cos'è la rivalsa quando trasporto le persone in soprannumero come vi ho detto prima quando faccio un uso irregolare della targa di prova che cosa è la targa di prova è quella che mettono le concessionarie quando volete fare la prova su strada della guida di un veicolo prima di comprarlo non è ancora immatricolato non ha ancora una targa definitiva vi applicano una targa di prova c'è scritto prova in rosso targa a fondo nero con la scritta prova in rosso e diciamo delle sigle per la targa di prova se faccio un uso irregolare c'è il diritto di rivalsa e poi quando noleggio il mio veicolo cioè do il mio veicolo a noleggio senza l'apposita licenza di auto noleggio adesso vi spiego che cos'è la rivalsa in caso di incidente dove io naturalmente abbia la colpa dell'incidente l'assicurazione se io circolo fuori legge per esempio in uno di questi quattro casi paga i danni a chi io ho danneggiato e poi si fa ridare tutti i soldi da me cioè praticamente come in termini pratici come se non fossi assicurato perché devo pagare tutto io poi quello che lei ha sborsato glielo devo ridare all'assicurazione vediamo il rischio statico che vale per i rimorchi staccati dalla motrice quando sostano sulle aree pubbliche sulla strada pubblica devono essere coperti da un'assicurazione di rischio statico cioè se succede qualche cosa sono coperto se il rimorchio provoca dei danni durante la sosta non si sa non si può sapere magari strada in pendenza si mette in movimento da solo danneggia insomma si spera di no però ci sono delle precauzioni da prendere ma non si sa mai se invece se il rimorchio sosta agganciato alla motrice allora vale l'assicurazione della motrice quindi se attaccato fa corpo unico con la motrice vale l'assicurazione della motrice se è staccato deve avere una sua assicurazione a parte naturalmente sempre se sosta sulla strada pubblica ricordatevi che anche la motrice deve essere coperta di assicurazione se sosta sulle aree pubbliche non solo se circola ma anche quando è in sosta ultima cosa fondo di garanzie per le vittime della strada è polizza casco il fondo di garanzie per le vittime della strada è stato istituito per risarcire i danni provocati in casi in cui non si riesce a farsi risarcire dall'altro veicolo dall'altro conducente per esempio il conducente fugge non viene identificato oppure non è assicurato oppure è assicurato presso una compagnia insolvente cioè fallimentare che non può pagare questi sono i casi diciamo fondamentali chiesti nei quiz passiamo alle polize diciamo alle assicurazioni facoltative che non rientrano in quella obbligatoria che è quella in sede civile per danni a terzi le altre che sono polizza casco sul conducente se per caso si fa male non so esempio mi faccio da solo dei danni perché non sono capace di guidare vado a finire contro un palo quindi se mi assicuro come conducente nella mia assicurazione mi ripaga la mia assicurazione non ho fatto danni ad altri li ho fatti solo a me stesso oppure incendio e furto del veicolo sono a parte naturalmente quando il veicolo non ha più un valore economico dell'usato toglietelo perché se no continuate a pagare inutilmente e fatelo aggiornare di anno in anno perché con diciamo l'aggiornamento del valore dell'usato non pagatelo sempre come nuovo perché tanto non vi danno un euro in più di quello che varrebbe al momento come usato quando non ha più un valore toglietela quella dell'incendio e furto tanto non vi risarciscono se vi rubano una macchina ma è fuori mercato quindi non serve a nulla e tutte le altre per esempio atti vandalici eventi naturali cristalli se si rompe diciamo con un sasso mi schizza il sasso sul parabrezza si rompe un cristallo 500 euro circa insomma valutate voi se è il caso di farlo oppure no ogni tanto capita quindi infortunio il conducente tutela legale assistenza sono tutte in più diciamo fuori da quella obbligatoria e vanno pagate in più grazie a tutti